ma vi non ce l'ha poi lei sciocterà tutta contenta arriva e prende il bambino fin qua passandolo da questa parte se ti sembra meccanico ci inventiamo qualcosa ma non farei una vera naturale c'è benissimo allora per partire è proprio da sopra grazie mille un pochettino più dietro non so se li hai qualche impedimento dentro non so cosa c'è ok benissimo di qua bene motore partito ciao 7 2 prima 3 azione francesca un minuto arrivo si vabbè detto un minuto 5 minuti fa eccomi eccomi amore sto arrivando ma insomma una volta sei sempre in teatro una volta accendi il natale possiamo accendere in tempo si si ecco e questo? una sorpresa per te probabilmente no allora se è quello che penso lo voglio aprire subito no 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 hai già aperto tutti i regali prima della vigilia no no molla almeno lascialo per dopo sono i tuoi genitori penseranno che non ti ho regalato niente non faccio una bella domanda dai molla lascia uno per dopo ti prego